ciao 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 a tutti e allora amici vi racconto la bella berzelletta divertente spero che vi piaccia ovviamente dopo ci sono tre pazzi tre pazzi al bricopio in cui il dottore vuol vedere se uno di loro è guarito così se se ne va a casa dunque 12 su tre pazzi uno dei tre si chiama pasquale e allora ascoltate allora ragazzi vi ho portato vicino questa piscina per un bel tuffo sì d'attore sì 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 d'attore sì sì allora vai per primo il primo pazzo sale la labba nella piscina si avvia guarda giù la piscina senza acqua si tuffa il dottore dice questo è pazzo avanti il secondo il secondo pazzo va solo la labba guarda giù e si tuffa il dottore questo è un altro pazzo pasquale tocca a te sì dottore pasquale sale sulla labba guarda giù dalla piscina e vado al dottore il dottore dice si è salvato pasquale bene guarito lo riprendiamo a casa pasquale perché non ti sei buttata la piscina dottore mi mancava la cuffia bene bene amici spero che mi piace ok ciao ciao alla prossima te lo comandino a granchi ciao 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 ciao